Siamo qui a mangiarci le mani per colpa nostra, per noi, per gli errori nostri, che potevamo avere una classifica molto migliore, sia domenica scorsa che oggi, e invece ci ritroviamo a morderci le mani e a scalare ancora quella montagna che è un Everest impressionante. Una squadra che si mangia le mani per la seconda partita di fila, fotografia del Berletta dopo il 2-2 del vicino di Gravina, altra vittoria sfumata nel finale dopo il pareggio casalingo di sette giorni prima con il Rotonda. In doppio vantaggio grazie alle reti di La Monica, alla terza marcatura di fila, e Caputo, e forti della superiorità numerica per il rosso a De Gaulle, i ragazzi di Salvatore Ciullo si sono fatti raggiungere dai murgiani in 12 minuti. Da matita blu l'errore di Rizzo in occasione dell'1-2 di Stauciuk, da rivedere l'intero atteggiamento difensivo al novantesimo, quando Corigliano ha apparecchiato per Da Silva, il centro del definitivo pareggio. La partita l'avevamo in pugno, anche prima dell'errore del 2-1 abbiamo sperato il 3-0 due volte, poi è stato quell'errore che ha riaperto un po' la partita dove invece siamo stati ancora ad attaccare, poi invece siamo caduti un'altra volta nell'errore di commettere una cosa, un'ingenuità incredibile che ha portato al pareggio in Gravina ed eccoci qua. Il finale del match al vicino ha consegnato anche un rebus, dopo l'espulsione di Da Silva, protagonista secondo l'arbitro Palma di un eccesso di esultanza, valso il secondo cartellino giallo, una bottiglietta scagliata dagli spalti ha raggiunto il terreno di gioco, gesto che ha portato il direttore di gara a fischiare tre volte, nonostante un recupero ancora da giocare. Bagarre risolta con l'intervento delle forze dell'ordine e il ritorno in campo per giocare gli ultimi tre minuti, ciullo e l'aconico nel commentare l'accaduto. Sinceramente non ci ho capito nulla, perché infatti ha fischiato per tre volte, ho detto la partita è finita, guardando il cronopolo ho detto va, ma con 5 minuti se non erro, però non mi sono avvicinato con tutte quelle situazioni là, ho evitato di stare lontano e però niente, poi si è continuato a giocare per pochi minuti, però la partita diciamo che a un certo punto è finita lì. Il calendario non consente soste, con sei giornate ancora da giocare e 18 punti a disposizione, il Berletta oggi è quinto ultimo a quota 29 a meno 5 dalla salvezza diretta rappresentata dal Manfredonia. Il prossimo mese propone sfide a quattro delle prime cinque della classe, Fidelis Andri e Casarano al Puttilli, Tim Altamura e Martina in trasferta. Si parte giovedì alle 14.30 quando sarà tempo di ospitare la Fidelis in un derbissimo che Telesveva trasmetterà in diretta televisiva sul canale 18 e sui social attraverso Facebook e Youtube. L'ho detto quando sono arrivato, lo dico ancora adesso, non possiamo permetterci noi di guardare il calendario, noi dobbiamo guardare gara dopo gara, è sempre un tempo importante, molto, sia per la classifica che per tutte e due le squadre. Sono consapevole di questo, però come ho detto in precedenza, se noi tiriamo fuori ancora di più gli attributi è un conto, altrimenti è giusto che siamo in questa classifica.